Oggi incontro domestico, no non è domestico, sono a Dublino oggi a fare un po' di giri di amici, stati Meta, TikTok, Google, ma questo video parla di Gemini, perché molti di voi avranno ricevuto la notizia che Google Ads introduce definitivamente, per ora mercato anglosassone, perché di fatto Gemini funziona primariamente in lingua inglese, introduce il sistema di intelligenza artificiale generativo conversazionale con Gemini. Questo è finalmente un passo concreto verso il sistema di intelligenza artificiale reale in Google Ads di tipo generativo, per il semplice fatto che ci auspichiamo un po' come avviene con perplexity che anche Google Search introduca il sistema conversazionale, un po' chiaramente come il sistema collegato all'open AI di ChatGPT. La vera conformazione di un sistema di intelligenza artificiale deriva dal fatto che almeno in forma sintetica il sistema di intelligenza artificiale deve dialogare con te. Gemini che cosa farà? Gemini in buona sostanza aiuterà il publisher a ottenere il miglior annuncio possibile, lavorando anche in quelli che sono i temi dell'empatia nei confronti dell'audience, vale a dire che sarà possibile necessariamente chiedere al sistema di poter creare un tone of voice che sposi in buona sostanza quella che è la necessità di quell'annuncio specifico. Da questo punto di vista direi che è un fantastico passo avanti, arriveremo in lingua italiana molto molto dopo, presumibilmente dalla prima lingua che è l'inglese, dalla seconda che sarà molto probabilmente lo spagnolo, dal punto di vista dell'evoluzione basta vedere quanto è stato lenta l'evoluzione in termini di voice over. Quindi da questo punto di vista si tratta soltanto di aspettare, ma è un sistema che premerà assolutamente dal punto di vista qualitativo gli annunci, dal punto di vista qualitativo adesso torna un tema che assolutamente diventa un tema che è assolutamente interessante e che è destinato a svilupparsi perché oggi basta vedere quello che dicevamo l'altro giorno su CTR e CPC, avere un punteggio di qualità alto è necessariamente di nuovo molto molto interessante. Stiamo a vedere, alla prossima.